Dalle Filippine a Don Kong, 350 corristi da tutto il mondo ad Arezzo per il festival corale più antico d'Europa. È tutto pronto per il Polifonico che dal 20 al 25 agosto porterà concerti, concorsi, convegni e masterclass con esperti ed artisti da tutto il mondo nei luoghi più suggestivi della città di Guido Monaco. Un programma che spazia dalla musica sacra a quella profana, passando per il canto liturgico medievale e il canto popolare. Gli eventi, tutti ad ingresso libero, si terranno tra l'Auditorium Carum Hall Guido d'Arezzo, il convinto nazionale Emanuele II, la Basilica di San Domenico, il Teatro Pietro Aretino, la Fortezza Medicia e la Cattedrale dei Santi Pietro e Donato. Ad inaugurare il festival il concerto presso la Basilica di San Domenico con il prestigioso Camer Corps, uno dei principali cori da camera della Germania, guidato dal suo fondatore e direttore Georg Grun. Cuore del programma è il 72esimo concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo, insegnito della medaglia della Presidenza della Repubblica che vedrà le esibizioni di 350 corristi provenienti dalle Filippine a Don Kong, dall'Italia alla Germania, dalla Spagna alla Francia, sino alla Polonia e l'Indonesia. 11 eccellenze della musica corale internazionale che saranno valutate da una giuria d'eccezione. Nel Parco della Fortezza Medicia venerdì 23 agosto alle 21.15 invece il 39esimo festival internazionale di canto popolare durante il quale si esibirà come coro ospite quello folcloristico dei Cardellini del Fontanino. Sabato 24 agosto infine all'Auditorium Carum Hall l'appuntamento da non perdere con la proclamazione del vincitore del Gran Premio Città d'Arezzo. La Fortezza Medicia venerdì 23 agosto infine!